Tutta un'altra storia rispetto ai due precedenti della stagione regolare. La Salinis ci mette il solito grande impegno ma questa volta contro la Cogianco, favorita numero uno per vincere i play-off di A2 non basta. La spuntano i laziali con il punteggio di 6-2 sul parquet del pala di sfida Mario Borgia di Barletta nella semifinale d'andata. Pochi sorrisi dunque per la formazione di Margherita di Savoia che lamenta anche alcune decisioni arbitrali sfavorevoli. La gara si apre con il botta e risposta iniziale tra Boaventura per gli ospiti e Nardacchione per i padroni di casa. Poi arriva il break dei laziali che vanno in gol ancora con Boaventura e Ruben prima dell'intervallo e volano sul più tre in avvio di ripresa grazie allo stesso Ruben. Il solito Nardacchione riporta in scia i rossanero di Domenico lo dispoto ma nell'ultimo quarto di partita è ancora il Cogianco a pungere con il trist personale di Boaventura e la rete del definitivo più quattro realizzata da Teixeira sabato prossimo nella gara di ritorno in programma a Genzano di Roma e in pratica una mission impossible quella della Salinis. Siamo qua a parlare di una società che l'anno scorso era il primo anno in A2 e si è salvata. Il secondo anno arriva ai play-off contro squadre che sono già meglio organizzate della Salinis. Abbiamo ottenuto secondo me quello che i ragazzi e i ragazzi hanno meritato. Poi i play-off sono partite secche, sono partite che bisogna tenere anche l'attenzione a posto, che ci stacca il Cogianco vinca. Esordio con sconfitta nella triangolare della seconda fase dei play-off di Serie B anche per il Fuzz al Barletta battuto 7-3 a Spoleto dalla Maran-Nursia. Risultato ingeneroso per i biancorossi di Leo Ferazzano rimasti in partita per oltre 30 minuti grazie alle reti di Vivaldo, Rafinha e Dutero. Nulla di compromesso in ogni caso nel cammino che porta alle semifinali. Ora però il Fuzzale è obbligato a vincere sabato prossimo al pala di sfida Mario Borgia contro il Cisternino per evitare l'uscita di scena anticipata.